Ragazzi dal Brasile, noi siamo felicissimi di accogliervi. Questa Università della Calabria è pronta ad ospitare tutti i ragazzi brasiliani che desiderano iscriversi ai nostri programmi di studi, che sono abbastanza all'avanguardia e ricevono consensi da tutto il mondo. In questo momento il nostro campus ha quasi mille studenti che provengono da oltre 70 paesi. Quindi è un'esperienza meravigliosa che potrete vivere se avrete il desiderio di iscrivervi ai nostri corsi di studi tramite quel portale www.unicaladmission.it Vi aspettiamo in tanti e siamo veramente felici di potervi ospitare e amiamo profondamente il vostro paese, il Brasile. Meraviglioso. Grazie. Grazie.